gentili telespettatori buona giornata berlusconi ha ragione sui novax così dice michele ansaldi membro della commissione di vigilanza rai non ha dubbi sui novax silvio berlusconi ha detto una cosa sacrosanta la rissa è vergognosa per la tv in generale per il servizio pubblico è scandalosa e rende immotivato pagare il canone michele ansaldi è deputato di italia viva e membro della commissione di vigilanza rai non ha dubbi sulla necessità di evitare batti becchi tra novax e vaccinisti sulle reti rai e aggiunge non sono solo io a sostenerlo oggi lo dice anche aldo grasso in maniera ancora più documentata attenzione non è solo ansaldi aldo grasso ormai tutti i giornati parlano delle finte o volute o cercate litigate in televisione e semplicemente questo l'argomento covid tira in televisione e hanno capito le reti televisive che la litigata funziona l'italiano medio vuole vedere tragedie poverino sai cosa gli è successo dopo la pubblicità ecco l'italiano medio vuole vedere le tragedie le tragedie e vuole vedere le litigate se voi guardate uno dei canali più seguiti italiani su youtube è un canale che parla solo ed esclusivamente di tragedie solo esclusivamente notizie di tragedie ed è molto visto e questo vi fa capire che hanno ragione l'italiano medio cerca le tragedie le litigate in televisione gente che grida si parla sopra berlusconi su media 7 ha allontanato giordano se voi guardate porro è andato ancora in onda mentre giordano no giordano reputato filo novax lo avevano già convocato lo avevano sgridato lui aveva gridato io sono un giornalista faccio quello che voglio mentre mediaset dice la linea aziendale editoriale è questa noi non non dobbiamo favorire i novax quando io parlavo di giordano dipendente di mediaset più di uno di voi diciamo cosa dici giordano mica non è mica un dipendente un giornalista il mondo è bello perché vario aprite la vostra mente e ascoltate se tu lavori per un'azienda privata che ti dà uno stipendio sei un dipendente cosa credete che il giornalista vive di vive di ricordi vive di di aria pura giornalista cosa vuol dire che non hai non hai nessuno a cui riferire ovvio se tu lavori a mediaset quella è la tua azienda che ti paga lo stipendio porro del debbio giordano sono dei dipendenti ho capito che porro lavora per il giornale lavora per mediaset e lui è dipendente del giornale dei dipendenti di mediaset e ma lavora con partita iva gli fanno un contratto ma tu dipendi da quella rete televisiva per il lavoro che ti danno sono giornalista allora dico quello che voglio no non puoi dire quello che vuoi ma neanche sui social puoi dire quello che vuoi se no hai finito è chiaro quindi se porro lavora per mediaset ha un programma televisivo e mediaset ti dice puoi fare questo e non puoi fare quello e lui non segue le direttive aziendali come dipendente lo buttano fuori e questa è la realtà è inutile dire le scemenze mica è un dipendente un giornalista ma va la va la sveglia 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 e poi allora torniamo al fatto che le aziende commerciali le private le televisioni private le televisioni private anche le televisioni di stato rai 1 rai 2 rai 3 rai o io rai cipe chop tricotraco inseguono la logica del business ubusinnisi e la logica del business dice le tele le pubblicità pagano di più se gli ascolti sono alti per fare gli ascolti alti l'italiano medio vuole le gridate e le tragedie e noi dobbiamo portargli programmi tipo quelli della barbara d'urso poverino sai cosa gli è successo e per la barbara d'urso quei programmi di tragedie chi l'ha visto chi l'ha rivisto chi l'ha stravisto ma tu l'hai visto ecco quei programmi lì no le tragedie e le gridate sgarbi che grida capra capra il conduttore che va in giro col monopattino e grida la telecamera e tira i pugni ai citofoni finti vestito da da polizia da vigile urbano che che sventola palette rosse l'italiano medio vuole questo questo vuole quelli che litigano quello che si alza se ne va che offende l'altro che grida l'italiano medio vuole questo e le televisioni danno questo danno questo quindi quando si dice che berlusconi ha ragione sui novax la risposta è un'altra berlusconi sta dicendo ma anche silvio ma anche nelle tue televisioni fanno la stessa cosa dai ma su è la stessa identica cosa cioè tu critichierai perché il servizio pubblico non lo può fare e tu sì è il servizio pubblico noi paghiamo il canone non si può fare le litigate e ho capito ma anche tu nelle televisioni private anche se non paghiamo il canone stai facendo la stessa schifezza la stessa identica schifezza di invitare il vaccinato il non vaccinato sperando che litighino il più possibile che gridino speriamo no che così facciamo audience anzi invitano le persone che magari il giorno prima il professore lì che non mi ricordo cortri cotri ha litigato con scansi sono andati su coi paroloni chiamalo chiamalo lo voglio nel programma e poi chiamami bassetti chiamami l'altro virologo che facciamo uno scontro epico e speriamo che che se ne dicano di tutti i colori e questo è è penosissima la 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 televisione italiana l'altra due giorni fa sto guardando poca televisione due giorni fa accendo la televisione su rete 4 cos'era carta bianca sembra un gelato carta bianca ma dammi un cornetto carta bianca carta bianca chi vedo la star medica bassetti che stava litigando con un altro dico bacribio accendo la televisione il primo che vedo è bassetti su rete 4 che sta litigando con un altro per fare audience rete 4 di berlusconi quindi silvio tu critichilarai ma guardati in casa ma lei viste le tue trasmissioni ma lei viste le tue trasmissioni che livello basso hanno ma è quello che vogliono gli italiani è quello e ho capito allora non criticare neanche zitto e basta com'è quel progresso quel proverbio il 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 bue dice cornuto al no il toro dice il bue dice cornuto al toro non lo so non me lo ricordo più non se lo ricorda più arrivederci a tutti e grazie